ecco i babbi che accendono il fuoco poi ci va un po' di cena Emiliana che vuoi dire? niente, meglio di no vabbè sono mai educato se stavo vabbè ecco l'Ontra tu sei il numero uno tu sei il numero uno tu sei il numero uno zico zico il numero uno penso di no posizioniamoci da quest'altra parte Giulia ecco Gigi è stata messa in punizione perché ha mangiato già metà pizza rustica e metà salamino Gigi sta in punizione metti giù ciao ecco le bimbe che ci ha letta saluta e a grande richiesta guardiamo uno dei numeri uno di per l'agosto taglia uno ballate su Francesca che guarda perplessa i bimbi che giocano dai 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 riavviciniamoci qua in zona riprendiamo in zona ma fra quando sarà pronta la carne c'è una pentolina di ferro da là si vede il fuoriclame zico fra quando sarà pronta la carne ricordati che hai una telecamere e che andrai su internet zico quando ti stai a morire di fame riportiamo il pezzettino no piccoli